Tanti minuti, in un mattino di cinque, fai... Se per risposta è stata puntata alle persone che sono già interventute, consigliere l'attimo che dice. Andate, la questione stasera, dove rispondere anche a qualcuno o a qualche pubblico che c'è in aula, non è elezioni sì, elezionino. La questione è che la Polini è una cosa semplice. Qua stiamo parlando, se il sindaco, c'ha ancora, e lo sta dimostrando che non è, c'ha una ragionanza poeta di un progetto per governare questa città. Semplicemente che ci siamo chiedenti. E questo sta nel nostro cuore di opposizione. C'è da essere strumentali e senza, ovviamente, fare una goccia. E per la politica, mi piace o non mi piace, ci sono delle regole. Sono delle regole ben precisi. Quando si dice di cosa stiamo parlando, ebbene, guardate, noi dell'opposizione, l'abbiamo detto appena che si sono insediati, questa amministrazione sta facendo atti contro le regole. Perché non è possibile che questa amministrazione fa dieci dirigenti in questo gruppo per una spesa di circa un milione di euro l'arte. Non è possibile che questa amministrazione crea un fiso di stampa con un attento stampa di oltre 40 milioni. Non è possibile che questa amministrazione crea un fiso di stampa di oltre 40 milioni. Tanto è vero che chiedi, perché poi queste cose bisogna sapere, quindi, allora le regge, non è possibile andare a prendere il tetto sereo di stampa di oltre 40 milioni. Perché a volte le regge, sono appena addirittura di una commissione, e io voglio dare atto che nelle commissioni si lavora in una Commissione. Io e il Presidente della Commissione siamo rimasti di essere fatti, essere fatti, perché questa amministrazione ha avuto il valpano coraggio di spacchettare un settore in tre, dando la preghia di centri diversi e siamo andati al settore a chi. Ma come cosa stiamo parlando tra mio amico e collega da Luccio? Stiamo parlando di altri e di cose che questa amministrazione ha fatto e ne ha fatto e conoscerà dove il Partito Democratico le ha stigmatizzate punto per punto. Non è possibile andare avanti dove c'è una questione e la maggioranza ha due proposte diversi. Ma di che stiamo parlando? Quando io dico vicino al titolo, dimentichi, è perché ho trovato che mi riprendi la situazione ma poi non c'è. E anche sull'altro, Presidente, parlo alle conclusioni. Voglio fare una domanda all'assessore sull'altro. Assessore, a lei risulta che ci sono stati quelli di spesa presi con dei parenti di licencio coordinato all'approvazione di quest'altro? Consiglio, ovviamente lei non abbastanza di��cione che si afectano via domande. Chessore che il numero bene d'un diffonde il Presidente. E' perché questo è il Presidente del Presidente del Presidente. E' la conclusione del Presidente del Presidente. Allora, la Presidente del Presidente del Presidente esporta la domanda e le dava la risposta. Ok. E rispetto a questo, rispetto a altro, noi, io in particolare sono contrario a questo caso. E vado alle conclusioni brevemente. Perché vedete, quando poi un'altra cosa si dice questo è un altro tecnico, è come questo è una razione breve. E chi ve lo dice? Se ha fatto l'assessore al bilancio. Questo non è il commutivo, è un rischio avere una dinamazione, questo è l'assessamento, dove questa amministrazione avrebbe potuto fare una macchina di azione dove avrebbe messo in campo un bilancio che non è stato uscito. E quindi perché? Adesso un altro atto sarà la tese di un altro giù. Questa amministrazione voleva portare, e qua, ovviamente, faccio l'appunto all'assessore. Consiglio di Presidente, non mi faccio l'assessore. Allora, sono trascorsi cinque minuti. Ma poi stiamo parlando di una cosa. Ma non trascorsi cinque minuti. Perché consigliate, o lei, ma lei, non mi faccio l'assessore. Per dirmi un'altra cosa. Prego. E poi, tra questi cinque minuti. Quindi rispetto a questo, fa capire che questa amministrazione non ha una visione, non ha una corregazione. Abbiamo fatto delle variazioni. Qui in pochi, così misericordi, che stiamo parlando di feste, di Natale, di luminarie, che parlano di manifestazioni, di questo che è parlato fino adesso in questa amministrazione. Di dirigenti, di manifestazioni e di manifestazioni. E diceva bene il Consigliere Rai. Null'altro, è stato portato avanti da questa amministrazione. E oggi questa amministrazione va a dar, si trovi a noi, non mi scoglio, e concludo, il Partito Democratico, perché oggi non ha voluto la ultimaneità, la voluto, ha presentato un documento, ha presentato un documento, dove ha ufficialmente avuto la crisi, e ha diagato, e ha venuto adoperato un sequestro re-crisi, un'arma che si chiama bravo, e ha voluto il sindaco. Ecco la mia, con segreto, non devi fare anche con segreto. Perché poi se vuoi andare avanti in questo modo, penso che questo non puoi governare. Grazie.